Oggi è Pasqua, sono contento di fare gli auguri a tutti voi. La Pasqua per noi cristiani è la festa più importante, la Settimana Santa è il cuore della nostra vita di fede. Accompagniamo Gesù che va verso la croce nel dolore, abbandonato da tanti ma alcuni lo seguono. Ci mostra in questo tempo come la vittoria della mitezza, del rifiuto della violenza sia l'unica vittoria che può portare a questo mondo la pace e può farci vivere insieme gli uni con gli altri nelle nostre differenze. La Pasqua è il giorno della vita, della risurrezione ed è anche un grande messaggio direi non solo per i cristiani secondo me ma anche mi permetto di dire per tutti. Cerchiamo la vita cari amici, noi siamo in un mondo in cui c'è troppo rancore, ci sono troppi odi, ci sono troppe contrapposizioni, ci abituiamo troppo a contrapporci l'uno all'altro, ad insultarci. Io vedo tanta rassegnazione alla tristezza, tanta rassegnazione all'abitudine a trattarci male, a trattarci con rancore, con diffidenza. Ma perché mi chiedo? Oggi il Signore chiede a noi cristiani almeno di incontrarci nella vita, di aiutarci, di vivere vicino a chi soffre, a chi ha bisogno. Tante famiglie, tanti anziani anche della nostra terra soffrono. Perché dobbiamo chiuderci nel nostro egoismo? Andiamo incontro agli altri. Cari amici, gli altri hanno bisogno di noi, hanno bisogno di essere insieme, di vivere in un mondo che ci renda la vita possibile. La Pasqua è un inno alla vita, ma la vita di un uomo che ha sofferto, un uomo che ha rifiutato la violenza e per questo è stato crocifisso, un uomo che ha comunicato il grande messaggio della mitezza in questo mondo in cui talvolta la mitezza sembra quasi una chimera, ma è possibile vivere da miti. È l'unica vittoria che noi cristiani riteniamo possibile, la vittoria dell'amore sull'odio, sulla contrapposizione, sulla violenza, sull'indifferenza verso chi soffre. Io vi auguro questo e auguro a tutti voi con grande gioia. Ricordatevi anche di me e se potete pregate anche per me che ho bisogno della vostra forza e della vostra preghiera per rendermi servo della terra in cui sono, una grande e bella terra che ha bisogno di grande amore e di grande solidarietà. Questo è il mio auguri.